Cari amici, volevo portare alla vostra attenzione uno studio condotto da uno studente di psicologia che per la sua laurea triennale, credo, ha condotto questo studio proprio indagando così sui meccanismi dell'ostracismo messo in atto dalla società Torre di Guardia, su indicazione della società Torre di Guardia dai parenti di una persona che è stata disassociata o che comunque persiste in dubbi dottrinali. Non è ammessa di fatto la possibilità all'interno di un nucleo familiare composto da testimoni di Geova, nella stragrande maggioranza dei casi, di scegliere una strada diversa. Questa è la realtà. Mi si viene a dire spesso che questo non accade, bisognerebbe vedere. Io e tantissimi altri abbiamo moltissime, moltissime testimonianze che questo invece accade ampiamente, che soprattutto abbiamo una dubbice dichiarazione da parte della Torre di Guardia. Da una parte viene detto che i legami familiari restano invariati, laddove questa espressione lascerebbe intendere che le relazioni quotidiane non vengono assolutamente intaccate. ripeto, la realtà, l'esperienza ci porta a pensare a tutt'altro. E allora su un campione di dieci, che potrebbe sembrare abbastanza esiguo, ma non è tanto la quantità, ma la qualità, ne basta anche solamente quattro di queste esperienze drammatiche, e ha condotto, ha potuto arrivare a delle conclusioni. E' chiaro che, come ogni lavoro scientifico, poi un altro psicologo potrà rispondere a sua volta, magari correggendo queste conclusioni. Però ci preoccupiamo così, insomma, sono preoccupato di voler farle conoscere i risultati di questo studio, perché, a mio avviso, fanno comunque riflettere molte persone che subiscono in questo momento, mentre mi stanno ascoltando questo di cui si parla nella tesi, sanno bene di cosa si sta parlando. Per me questo è importante e ve lo faccio appunto conoscere. Le conclusioni di questa tesi, che è intitolata L'ostacismo nella comunità dei testimoni di Geva in Italia Andiamo direttamente alle conclusioni Magari prima scorriamo l'indice Che cos'è una comunità? La comunità dei testimoni di Geva in Italia L'ostacismo nella comunità dei testimoni di Geva in Italia Indagina empirica Interviste e risultati e conclusioni E andiamo proprio a pagina 34 Da dove, guardate, c'è una citazione interessante Che io, nelle scorse puntate dedicato all'ostacismo, avevo dimenticato Avevo letto tempo fa Che veramente fa capire proprio La doppiezza di altre organizzazioni come questa Che non fanno altro che per tutelare se stesse Di incoraggiare questi comportamenti che isolano il problema Isolare il problema, parola d'ordine Non per farlo, sì, anche per costringerlo psicologicamente a farlo tornare Anche se magari non è più convinto comunque Che accade anche questo Persone che non hanno affatto risolto i loro dubbi Ma fanno buon viso e cattivo gioco Proprio perché è pesantissimo da sopportare l'isolamento sociale Lo studio effettuato con la collaborazione dei dieci partecipanti Ha confermato un effetto deleterio Sullo stato psicologico ed emotivo di coloro che subiscono l'isolamento sociale In tutti i casi è stato evidente come la comunità dei testimoni di giovane in Italia E verosimilmente nel resto del mondo Spinga l'aderente a coltivare amicizie esclusivamente nell'ingrope Cioè all'interno della comunità di appartenenza Questo rende l'ostracismo la pena ancora più dolorosa In quanto priva la persona di tutta la base sociale significativa Il dolore emotivo conseguente all'ostracismo è stato confermato da tutti gli intervistati E' utile evidenziare come le conseguenze dell'ostracismo Siano descritte nelle stesse pubblicazioni dei testimoni di Geova In questo articolo evidentemente non pensando che si poteva tranquillamente applicare Alle metodiche che lei stessa indica di applicare E' paradossale come la Torre di Guardia parli del pericolo E' pericolo a cui si fa incontro per la persona che le subisce Dell'isolamento sociale Ascoltate A questo sta scrivendo, leggendo, riportando una citazione del 15 luglio del 2003 Poi vi troverò anche la pagina Lui non l'ha riportata ma vi troverò anche la pagina E metto tutto in calcio e in descrizione E' a disposizione questo documento, questa tesi E' scaricabile con quello già scaricata Quindi vi mando o via mail il file della tesi Oppure anche dal link che metto E che ha messo a disposizione dello studente A questo proposito il dottor Daniel Goleman ha detto L'isolamento sociale La sensazione di non avere nessuno con cui condividere i propri sentimenti più intimi O con cui avere uno stretto contatto Raddoppia la probabilità di malattia o morte Nelle sue conclusioni un articolo pubblicato sul periodico Science Affermava che l'isolamento sociale è significativo Ai fini della mortalità Esattamente come il fumo Ipertensione Un elevato livello ematico di colesterolo L'obesità E la mancanza di attività fisica Durante l'intervista in tutti i dieci casi I partecipanti hanno confermato che la disassociazione E' stata preceduta da un comitato giudiziario Vedete il capitolo 3 In un caso la sentenza di disassociazione E' stata emessa in contumacia Sono stati fatti alcuni Cioè in assenza della persona condannata Sono stati fatti alcuni tentativi Di coinvolgere nelle interviste Anche persone che dopo aver subito L'isolamento sociale per un certo periodo di tempo Sono poi state reintegrate O secondo il lessico interno Riassociate nella comunità Andiamo avanti Dobbiamo stare attenti che la nostra condotta Non recchi biasimo su Geova E sulla sua organizzazione Dice Fare questo è cui verrebbe per un testimone di Geova A offendere la propria madre Questo purtroppo è accaduto tante volte E non solo E non solo Della congregazione dei testimoni di Geova Ma in altri culti Proprio a causa degli scandali Legati alla pedofilia Quante volte Si è fatto finta di non vedere Il nonno Mi ha messo le mani Ma no, ma quello voleva giocare Perché Non si va dall'anziano A denunciare Perché Si interpreta la violenza subita Come un gioco Fa comodo Perché l'ultima cosa che si vorrebbe fare È Recare biasimo Biasimo Sulla congregazione Ripeto Non è solo Un problema Non è stato solo un problema Non è solo un problema Della congregazione dei testimoni di Geova Ma tante volte Per non infangare Il nome di una famiglia E Legge ancora Soprattutto Della congregazione dei testimoni di Geova Si è taciuto Questo studio ha confermato La natura sociale Degli esseri umani E i loro fondamentali bisogni Di una rete sociale Di riferimento Siamo stati fatti per comunicare Io aggiungo Dal cristiano cattolico credente Siamo fatti immagini della trinità Dio è Comunica Siamo La relazione È iscritta nel nostro DNA spirituale Quando questa viene a mancare L'individuo si sente disorientato Come il bambino Nella prospettiva Volbiana Cita uno studioso Uno psicologo In assenza della madre Soffre la mancanza Di una base sicura Per l'esplorazione Dell'ambiente E per sentirsi sicuro E protetto Così l'escluso sociale Si ritrova solo E senza stabili Punti di riferimento Questo genera Emozioni dolorose E a volte la vittima Può essere indotta A credere Che la sola via Di uscita dal dolore O quella più immediata Sia il ritorno Nella comunità In alcuni casi Questo meccanismo Funge dal deterrente Affinché gli adepti Non abbandonino La comunità A cui intervistati Hanno rivelato Di essere a conoscenza Testimoni di Giova Che non credono più Come dicevo all'inizio Ai dettami della propria religione Ma che rimangono dentro Per paura di perdere i parenti Un fenomeno Che è emerso In più di un'intervista È quello delle aggregazioni Sui social network Tra persone che condividono L'esperienza di isolamento sociale E del beneficio tratto Da alcuni Nel confrontarsi con altri Anche solo tramite Messaggi e chat L'auspicio È che Pur nelle sue modeste dimensioni Questo studio Apro una riflessione All'interno e all'esterno Delle comunità Che lo praticano Sulla correttezza All'ammissibilità Di una pratica Qual è quella Dello stracismo Specie quando questa Venga promossa Da un movimento religioso Riconosciuto Dalla Repubblica Italiana Come ente morale Con personalità giudizia Sartre diceva Si L'inferno sono gli altri Per via della nostra natura Ontologicamente sociale Noi esistiamo Solo attraverso gli altri Ed è la percezione Che hanno di noi A definirci Nel momento in cui Gli altri Decidono di ignorarci O dimenticarci Noi non esistiamo Semplicemente più La speranza Di affiancare Coloro che vengono Ignorati E cancellati Dal proprio gruppo sociale Fornendo loro Spunti e strumenti Per comprendere meglio Le dinamiche Per comprendere più Profondamente Se stessi Se si è subito L'ostracismo Per trovare punti Di confronto Di conforto E per non perdere La speranza Di poter ricostruire Una rete sociale stabile Della quale L'amicizia E la mutua assistenza Siano autentiche Disinteressate E libere Dalla costante minaccia Della morte sociale Proprio così Quindi Torniamo un attimo Alla citazione Cara Torre di Guardia Tu sai benissimo Quali sono Le conseguenze Qui ci sono poi tutte Le testimonianze Leggetto È interessante Veramente E Sai benissimo Quali sono le conseguenze Dell'isolamento sociale Perché ne hai parlato Addirittura Ne hai parlato E È veramente Assurdo questo Come possa veramente Accadere E Mi dispiace Veramente Che Continuino Tante persone A non voler vedere A fare finta di nulla O a dire Prima Di battezzarti Ti viene detto Quali sono le conseguenze Un conto È dirlo A voce Continua a dire È altro Tutt'altra cosa È poi Sperimentare Sulla tua pelle Le conseguenze Psicologiche Di questo isolamento Tante persone Ci penserebbero Molto bene Pensate A quello che accade A un ragazzino Perché L'età dei battesimi È Mi sembra proprio Di poter capire Sempre più bassa Si stanno battezzando Anche a 7 8 anni Pensate A un ragazzino Anche a 14 anni Ti viene battezzato E a 18 Quattro anni Si rende conto Che Non crede più In nulla Di quello Di cui In cui Dicono Di dover Credere Cosa A cosa va incontro Questo ragazzo Di 18 anni Una ragazza Di 18 anni In una famiglia Tutta interamente Di testimonio Di Geva Pensate Che la pasta Era liscia No Che poi ci siano Delle testimonio Di Geva Illuminati Che vanno Oltre I vari Filmati In cui si dice Appunto Di isolare Di Questo Viva Dio E grazie a Dio Ci sono Però Questo non vuole Assolutamente Significare Che bisogna Passare sopra Quelle che invece Sono le indicazioni Molto Nette Di una società Che ti dice Che neanche una mail Devi mandare Che neanche un ciao Perché da quel ciao Può cominciare Una fase Di indottrinamento Al contrario Lui ti può convincere Di cose sbagliate Devi isolarlo Questo è quello Che dice la società Troia di guardia Grazie Dell'ascolto